Un anno e mezzo fa, sulla terra abbattuta di Hamburgo, Lorenzo Musetti raggiungeva l'apice di quella che è stata fin qui la sua carriera e lo faceva prendendo sul torneo più prestigioso mai vinto, battendo in finale un allora diciottenne Carlos Alcaraz. Nei mesi successivi le parabole dei due presero però traiettorie decisamente differenti, con Alcaraz capace di vincere due slam e diventare addirittura il numero uno del mondo e Musetti invece non in grado di confermare quel risultato e soprattutto non in grado di continuare il suo processo di crescita. Le strade dei due nel frattempo si sono incontrate un'altra volta, negli ottavi di finale del Roland Garros dell'anno passato e poi di nuovo ieri sul cemento rovente di Miami. E come a Parigi, a differenza di Hamburgo, Musetti non è riuscito a insidiare per davvero il prodigio spagnolo che nel frattempo ha raggiunto un livello difficile da avvicinare per chiunque. Musetti dopo Saffiulli e Shelton si è trovato di fronte nuovamente a un giocatore iperaggressivo ma la qualità dell'esecuzione di Alcaraz si è rivelata come prevedibile di livello molto differente. Se infatti nelle partite precedenti Musetti, grazie ad un'ottima precisione al servizio, aveva messo in grande difficoltà due giocatori molto inefficienti in risposta, stanotte l'italiano si è trovato di fronte il giocatore invece più efficiente del circuito in risposta. E non solo, Alcaraz nonostante il servizio probabilmente inferiore rispetto a quello di Saffiulli e Shelton, almeno isolando diciamo il fondamentale, ha una gestione complessiva dei suoi turni di battuta molto migliore che ha esposto la risposta di Musetti di contenimento che aveva così funzionato bene nei turni precedenti. Insomma, banalmente Musetti si è trovato un avversario molto più forte, troppo più forte dei precedenti, con il quale è riuscito a competere veramente solo per una manciata di game ad inizio, secondo sette e soprattutto per un breve passaggio a vuoto dello spagnolo. Alcaraz nei quarti di finale troverà Grigor Dimitrov che ha battuto al tiebreak del terzo in quella che è stata la migliore partita della giornata uberturkac confermando ancora una volta una meravigliosa, insomma, sorta di seconda giovinezza tennistica. Un Dimitrov tra l'altro in grado di battere Alcaraz qualche mese fa a Shanghai e che quindi possiede, almeno teoricamente, gli strumenti per creare perlomeno qualche problema allo spagnolo. Vince anche la testa di serie numero 2, Yannick Sinner, che a dispetto del 6-4-6-3 in apparenza netto ha dovuto faticare parecchio contro Christopher O'Connell, australiano abbastanza tipico che l'aveva già sorpreso due anni e mezzo fa ad Atlanta. Sinner è partito male, un po' nervoso, poco reattivo in risposta ed impreciso con il dritto come nella partita contro Grigsburg, si è fatto subito bercare malamente e ha dovuto sudare parecchio per riuscire a riagganciare e poi a separarsi da un avversario in stato di grazia, davvero, per la prima mezz'ora abbondante. Sinner troverà adesso Tomac Mahac, tennista cieco che finalmente pare aver compiuto il salto di qualità che si attendeva da lui da un paio di stagioni. Mahac sta disputando un torneo di altissimo livello e dopo aver battuto Rublev ed uno sfortunato Andy Murray è riuscito a superare anche Matteo Arnaldi in una partita che per certi versi mi ha sorpreso. In un incrocio tra giocatori abbastanza simili, rapidissimi e capaci di imprimere un grande ritmo, una grande velocità alla partita, pensavo che Arnaldi potesse far valere la maggiore pesantezza e affedabilità del proprio dritto e una solidità mentale sotto pressione che in passato si è mostrata superiore a quella di Mahac, che proprio nella gestione emotiva delle partite in un dritto spesso poco stabile ha sempre avuto i punti di maggiore fragilità. Ed invece è accaduto tutto il contrario con Mahac capace di reggere e anzi andare sopra ad Arnaldi su entrambe le diagonali, di servire meglio, di accorciare con più qualità verso la rete ma soprattutto di gestire con più lucidità i passaggi più delicati della partita. Insomma una sconfitta abbastanza netta che chiude bruscamente la stagione sul cemento di Arnaldi che adesso dovrà concentrarsi sui prossimi mesi sul rosso dove inizierà a dover difendere alcuni risultati importanti e pesanti ottenuti l'anno passato. Da segnalare infine la sorpresa di giornata, anche se nel momento in cui registro prima di collassare dal sonno si deve ancora concludere la partita tra Zverev e Medvedev, sorpresa di giornata dicevo che ha visto Fabian Marojan battere uno dei giocatori più caldi del circuito e degli ultimi tempi come Alex Deminauro. Sorpresa fino a un certo punto in realtà, dato che Marojan aveva già sconfitto Deminauro sempre a livello 1000 qualche mese fa a Shanghai mi pare in ottobre e che durante il torneo stava mostrando un livello di gioco straordinario con il 6-1-6-1 rifilato a Rune al secondo turno a fare un po' da copertina del suo torneo. Ma Marojan sta facendo vedere qualità non comuni ormai da qualche mese. Un tempo sulla palla unico, soprattutto con il rovescio, una grande mano dalla metà campo in avanti ed in generale la capacità di interpretare un tennis spettacolare, per questo sicuramente difficile da stabilizzare e che forse non troppo a sorpresa si sta esprimendo al meglio, soprattutto nei tornei più importanti. Il suo record a livello 1000 è infatti abbastanza incredibile, vista la poca esperienza e la classifica e fa capire che potenziale abbia lungherese. È tutto per oggi, vi ricordo di mettere mi piace se il video vi è effettivamente piaciuto, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di valutare la possibilità di abbonarvi. Con soli 99 centesimi al mese avrete accesso a un sacco di cose esclusive, penso interessanti, ma soprattutto darete una mano a mantenere Slice indipendente e aiuterete concretamente alla sua crescita.